Ehi, scusi, credo sia salito sulla macchina sbagliata. Ma che ci facciamo qui? Che sta succedendo? Mi hanno mandato a prendervi per un motivo. Apri la porta! Aiuto! C'è un fiore sui cuscini, c'è un fiore in bagno, come se fossimo importanti. L'unica possibilità che abbiamo è che gli saltiamo addosso tutte e tre insieme. Quella chi è? Forse ti può aiutare. Siamo qui, aiutateci! Siamo qui! Non ti preoccupare. Non gli è permesso di toccarvi. Lo sa perché siete qui. E da retta a me. Mi chiamo Edwag. Quanti anni hai? Nove. Non ho mai visto un caso del genere. Ventitré personalità abitano nel corpo di Kevin. Tu chi sei? Aiutami ad uscire da qui, Edwag. No, no! Cerchi di fregarmi. Faccio la spia. Sei proprio la più sveglia. Un individuo con personalità multiple può cambiare la struttura del suo corpo con il pensiero. Qualcuno sta venendo a prendervi. Chi sta venendo? La bestia. Qui c'è un uomo che ci ha rapiti e che sta per uccidermi. Intende farci qualcosa? Qualcosa di orribile? Adesso il mondo capirà. La bestia è vera. Lui ha fatto cose terribili alla gente e farà cose terribili a voi. La bestia La bestia La bestia Grazie a tutti.